La Matrix europea, la verità dietro i giochi di potere, con Francesco Amodeo. Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Radio da Francesco Amodeo. L'altra sera a Piazza Pulita abbiamo assistito ad una scena surreale, oserei dire comica se non fosse per la drammaticità del messaggio che si nascondeva dietro quella messa in scena. Un uomo incappucciato, coperto da passamontagne e con occhiali scuri, era pronto a fare la propria confessione mentre il pubblico attendeva trepidante. Era lecito aspettarsi un pentito di mafia o uno spacciatore pronto a raccontare la realtà di qualche piazza della droga. Ho pensato anche che potesse essere un ex jihadista, un membro dei servizi segreti deviati, qualcuno in pratica con un ruolo che avrebbe giustificato quella copertura integrale del viso e la voce modificata per evitarne il riconoscimento. Lo stesso conduttore poneva enfasi a quel momento che potremmo definire di vero giornalismo d'inchiesta affermando che non è stato facile per questa persona venire in tv a raccontare certe cose. Bene cari amici, rullo di tamburi, il personaggio viene finalmente presentato al pubblico. Era un semplice idraulico che si dichiarava evasore perché costretto a rendersi invisibile ad un fisco iniquo che gli avrebbe impedito di arrivare a fine mese. A striscia li avrebbero chiamati i nuovi mostri ma c'è poco da ridere nonostante la comicità della scena perché questo implica il fatto che sia già partito il diktat del sistema a cui quello mediatico dovrà immediatamente conformarsi è del piccolo evasore che va immediatamente demonizzato per renderlo capro e spriatorio per le colpe di un paese che non cresce. E a quelli come lui che bisogna far sentire il tintinio delle manette e esibirli in pubblica piazza con il volto coperto per nascondere la vergogna. In modo che il povero pensionato da casa possa avere di fronte a sé l'immagine, seppur sotto copertura, del nemico che rischia di fargli abbassare la pensione facendo venire meno allo Stato le coperture per la spesa pubblica. Perché dovrei pagarti io il pronto soccorso? Domandava con piglio severo l'integro presentatore al proprio intervistato. E non possiamo dargli torto, anche se ci verrebbe la curiosità di capire dove paga le tasse chi produce quel programma condotto da formigli prodotto da un gruppo Magnolia che appartiene a sua volta ad un gruppo che ha un nome esotico, Benigiai e che potrebbe avere sedi in paese a tassazione dimezzata o che comunque risulta spacchettato in talmente tante società in giro per il mondo che ci risulta difficile credere che rispondano al fisco italiano. Cosa che, ahimè, il povero idralico non può fare ed è costretto a distribuire i suoi dividendi pare fossero intorno ai 1000 euro mensili tra il materasso e la post pay. Ecco i nuovi mostri da demonizzare. Non ho simpatia per questa persona, ha ribadito la co-conduttrice che è lecito pensare che sia a sua volta pagata grazie a Benigiai, l'International Group Worldwide, come si definisce sul proprio sito. Dubito quindi che incappucciati vedremo mai gli amministratori delle holding con sedi legali nei paradisi fiscali. Voi li immaginate presi dal rimorso e pronti a confezzarci come ludere milioni e milioni di euro ogni anno? Io no e sicuramente non l'immagino a piazza pulita. Il primo che rischierebbe lo stipendio a quel punto sarebbe proprio Formigli e va a finire che non può più pagare il pronto soccorso al povero idraulico. Quindi meglio incappucciare chi va di qualche centinaia di euro al mese guadagnando e aggiustando il lavello che scorre in casa di qualche italiano. È lui che va esibito in pubblica piazza, soprattutto se quella piazza è una piazza pulita. Il sistema ringrazia, investitori pure. Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Radio da Francesco Amodeo.